Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome 911 e ben ritrovati in questo nuovo video. Guardate a cosa stiamo giocando oggi, esatto, The Visitor Returns, l'episodio 2. Ragazzi se il primo The Visitor vi è sembrato a dir poco disgustoso, beh qui vi assicuro che vedrete di peggio. Ma non andiamo a spoilerare troppo, andiamo subito a giocare. Vi farò vedere roba forte. Ecco come vedete qui già abbiamo il nostro solito amico. Eccoci qui come vedete siamo caduti, grazie a questo meteorite. Come al solito il gioco ci dà questa indicazione, cioè di cliccare l'ambiente circostante per divorare e assimilare le nostre prede. Qui questa volta siamo ad uno stadio già più evoluto rispetto al primo The Visitor. E che abbiamo qui? Abbiamo un bellissimo procione, lampioni, elettricità e cosa sarà mai? Un tagliaerba? Ora vi faccio vedere questo vermetto quanto è furbo, oltre che affamato. Stacchiamo la presa e la attacchiamo qui, apriamo, prendiamo il martello che ci serve e diamo un colpo qua. Scuotiamo e buttiamo questa specie di pattumiera a terra. Ok, una volta buttata, se andiamo dritti contro il procione questo ci mangia, quindi giusto per fargli, come dire, per farlo rosicare. Ok, accendiamo il tagliaerba e lo facciamo scappare. Ci mettiamo dentro la spazzatura o quello schifo che lui stava mangiando, spegniamo il tagliaerba così lui ritorna, ci mangia e guardate un po'. Ah ah! Abbiamo assorbito anche lui e abbiamo anche le sue belle unghiette. Che ci serviranno? Adesso vi faccio vedere perché. Qui è un macello questo stage, non lo nego, c'è un bel po' di roba da fare. Tuttavia, ecco, il ragno non si può prendere, dobbiamo assimilarlo, però prima c'era da fare una cosa. Quindi, mettiamo subito la legna sotto il fuoco, questo lo mettiamo sopra, con l'accendino accenderemo il fuoco, però prima, ecco la rivista, perfetto. Mettiamola qua, l'accendino, diamo fuoco alla rivista. Ok. Come faccio a controllare telepaticamente questi oggetti a distanza non lo so, però abbiamo tolto la puzzola da lì che ora andrà a mangiare, credo sia zuppa di fagioli o schifezze varie. E adesso andiamo a usare questo, lo mettiamo qua sulla ragnatella in modo da attirare il ragno, che ora è molto più basso e quindi si farà prendere da noi, lo mangiamo e arriva la trasformazione. Ecco qui, guardate che bel pungiglione che c'è qua. Adesso andiamo dalla puzzola, visto che siamo pronti per affrontarla, andiamo dalla puzzola e gli spruzziamo un po' di ragnatela, così, ora che è bella bloccata, assimiliamo anche lei. Et voilà. Detto fatto. Guarda com'è figo. Adesso andiamo lì e buttiamo una bella scorreggia all'interno di quella finestra in modo che ci aprono la porta. Ragazzi, ma sto verme è davvero intelligente, oh. Devo dire, sfido chiunque a trovare un verme più intelligente di questo. Davvero. Ed ecco qua, eccoci in un nuovo scenario all'interno. Qui, come vedete, c'è uno scorpione e ce lo mangiamo subito. Ed ecco il pungiglione dello scorpione che si va ad aggiungere a tutto l'ambaradan che stiamo creando. Ora, sto cane rompe non poco le palle e a sua volta le rompe a me e al suo padrone. Quindi ora direi di buttare a terra i wurstel, così il padrone pensa che sia stato lui e lo caccia fuori. Lui deluso se ne va fuori e noi, guardate che facciamo. Chiaramente si accorge che ci siamo. Ce lo assimiliamo anche lui. Ecco, imbustato come un sacco di patate. Vieni qua. Puntura, assimilazione. E la madò. Ora siamo pronti per il padrone. Una volta assimilato il cane, buttiamo le sigarette a terra. Così prendiamo l'accendino. E in uno di questi sportelli c'è uno spray, come vedete. Ecco. Ora che si è macchiato di birra, o di whisky, no, credo sia whisky, sì. Adesso gli andiamo a spruzzare un po' di fiamma sulla maglietta, così lui è bello che è bruciato. E con quella faccia triste lo andiamo subito ad assimilare. una volta che è scontento. Preparatevi ad una delle scene più schifose e brutali. Ecco a voi. Oh mio Dio, che schifo. Intanto sua moglie è terrorizzata. Non so come abbia fatto a sentire questi rumori. Però è terrorizzata. Andiamola subito. Andiamogli a fare una visitina, ecco. Ecco qua. Se vado qui mi spara, come vedete, guardate. Perché c'ha una mira della madonna. Non so, sarà un cecchino, non lo so. Gli buttiamo la bottiglia di birra, così spara a lei, e io entro tranquillo. Ed eccoci giunti anche qui alla scena finale. A questo punto, a seconda della, come dire, dell'immaginetta che clicchiamo, la possiamo finire in diversi modi. Io voglio finirla in tutti i modi possibili e immaginabili. Cioè, prima in questo modo, poi in questo modo, poi in questo modo, poi in questo modo, e poi in questo modo. Trasformazione. Ci trasformeremo solo se seguiremo questa combinazione che ho seguito io. e come vedete l'abbiamo decapitata, sviscerata, soffocata, e in Venomination, non ho entrati cosa sia, ma gli abbiamo anche, gli siamo entrati nel corpo e ci siamo anche trasformati. Ed ecco qui. Il gioco, come avete visto, si è concluso qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto divertire e anche un po' ridere. Mi rendo conto che ci sono parecchie scene schifose, ma diciamo che per essere un giochino gratis non è niente male, non è niente male. È abbastanza ragionato, pensato e a me è piaciuto tanto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!